12. La nonna si trovava in una disposizione di spirito estremamente impaziente e irritabile. Era chiaro che non pensava ad altro che alla roulette. Si dimostrava indifferente a tutto il resto e in generale appariva molto distratta. Lungo la strada, per esempio, non mi faceva più tante domande come al mattino. Vedendo un cocchio lussuoso che ci passava accanto come un turbine, ha avuto un gesto e mi ha chiesto «Chi è? Di chi sono quei cavalli?» Ma mi è parso che non abbia nemmeno sentito la mia risposta. Questo suo stato distratto e quasi assente era interrotto di tanto in tanto da qualche domanda improvvisa o da bruschi e impazienti movimenti del corpo. Quando, già in vicinanza del casinò, le ho indicato di lontano il barone e la baronessa Wurmerem, la nonna li ha degnati appena di un'occhiata distratta e ha commentato in tono perfettamente indifferente. Poi, volgendosi bruscamente verso Potapic e Marfa, che la seguivano a piedi, li ha aggrediti con violenza. «Beh, e perché vi siete appiccicati in questo modo? Non posso mica prendervi con me ogni volta. Andatevene a casa, mi basta la tua compagnia», ha aggiunto rivolta a me, mentre quelli si inchinavano e frettolosamente tornavano indietro. Al casinò, la nonna era aspettata e le è stato subito liberato il posto di prima, accanto al croupier. Mi sembra che questi croupier, che sono sempre così compiti e che si presentano come dei semplici impiegati per i quali è assolutamente lo stesso se il banco vinca o perda, non siano in realtà affatto indifferenti alle fortune del banco e ricevano certo delle istruzioni per attirare i giocatori e per fare nel modo migliore gli interessi del banco. Per la qualcosa certamente esse ricevono delle gratifiche o dei premi. Perlomeno guardavano la nonna come se vedessero in lei la vittima predestinata. Ed effettivamente è successo proprio quello che i nostri avevano previsto. Ecco come sono andate le cose. La nonna si è precipitata direttamente sullo zero e mi ha subito ordinato di puntarci sopra dodici federici. Ha puntato una, due, tre volte e lo zero non usciva. Punta! Punta! Ripeteva la nonna dandomi degli spintoni per l'impazienza. Io obbedivo. Quante volte abbiamo puntato sullo zero? Mi ha chiesto alla fine la nonna digrignando i denti dall'impazienza. Abbiamo già puntato dodici volte nonna e abbiamo perduto centoquarantaquattro federici. Le ho già detto nonna che può darsi pure che per tutta la sera... Sta zitto! Mi ha tagliato la parola in bocca alla nonna. Punta sullo zero e punta anche mille fiorini sul rosso. Eccoti una banconota. Il rosso è uscito mentre lo zero ancora niente. Abbiamo vinto così mille fiorini. Lo vedi, lo vedi? Mi ha sussurrato la nonna. Ci siamo rifatti di quasi tutto quello che abbiamo perso. Punta ancora sullo zero. Punteremo ancora dieci volte e poi lasciamo andare. Ma alla quinta volta la nonna si era già stancata. Manda al diavolo quello schifoso zerucolo. Prendi e punta questi quattromila fiorini sul rosso. Mi ha ordinato. Ma nonna sono troppi. Cosa faremo se non uscirà il rosso? Ho detto io con voce supplichevole. Ma c'è mancato poco che la nonna non mi picchiasse. Del resto mi dava già certi spintoni che si poteva quasi dire che mi picchiava sul serio. Non c'era nulla da fare e così ho puntato sul rosso quattromila fiorini di quelli vinti al mattino. La pallina girava e la nonna se ne stava tranquillamente seduta con tutta la persona orgogliosamente eretta senza neppure dubitare dell'immancabile vincita. Zero ha annunciato il croupier. Lì per lì la nonna non aveva capito ma quando ha visto che il croupier rastrellava i suoi quattromila fiorini insieme a tutto quello che si trovava sul tavolo e ha capito che quel maledetto zero che per tante volte non era uscito e su cui avevamo perduto quasi duecento federici era finalmente uscito come a farlo apposta. Proprio quando lei l'aveva ingiuriato e abbandonato ha gettato un grido battendo le mani l'una contro l'altra così forte da farsi sentire in tutta la sala. Qualcuno lì intorno è perfino scoppiato in una risata. Padri santi guarda un po' quel maledetto va a uscire proprio adesso! Ha esclamato la nonna quasi piangendo. Che assassino! È colpa tua! È tutta colpa tua! Ha aggiunto voltandosi verso di me e spingendomi ferocemente. Sei stato tu a dissuadermi dal puntare! Ma io avevo ragione nonna non posso mica rispondere di tutte le probabilità! Ma te ne do io le probabilità! Ha bisbigliato minacciosamente la nonna. Vattene via da me! Addio nonna! Ho risposto e mi sono voltato per andarmene. Alexei Ivanovic! Alexei Ivanovic! Resta qui! Dove vuoi andare? Che ti prende? Guarda un po' come si è arrabbiato questo sciocco! Resta! Resta ancora e non arrabbiarti! Anche io sono una sciocca! Su dimmi ora cosa dobbiamo fare? Io non mi prendo la responsabilità di suggerirle nulla nonna perché poi lei se la prenderebbe con me. Giochi lei! Mi dica quel che devo puntare e io punterò! Beh punta ancora 4.000 fiorini sul rosso! Eccoti il portafoglio! Prendi! E così dicendo ha tirato fuori di tasca il portafoglio e me l'ha dato. Su prendi! Qui ci sono 20.000 rubli in contanti! Ma nonna! Ho bisbigliato! delle somme così forti! Non voglio più vivere se non mi rifaccio! Punta! Abbiamo puntato e abbiamo perduto! Punta! Punta! Punta il tutti e otto! Non si può nonna! La puntata massima è 4.000 e allora puntare 4.000! Questa volta abbiamo vinto e la nonna si era infrancata! Lo vedi! Lo vedi! E così dicendo ricominciava a spingere! Puntane ancora 4! Li ho puntati e li abbiamo persi! Poi ho puntato e abbiamo perso ancora due volte! Nonna se ne sono andati tutti e 12.000! Ho riferito! Lo vedo anch'io che se ne sono andati! Ha detto lei a mezza voce a sorta, se così posso esprimermi, nella calma della follia! Lo vedo, bambino, lo vedo! Continuava a borbottare come soprapensiero, fissando lo sguardo immobile dritto davanti a sé! Eh! Ma io non voglio più stare a questo mondo se non mi rifaccio! Punta ancora 4.000 fiorini! Ma non c'è più denaro, nonna! Nel portafoglio sono rimasti solo dei buoni al 5% e dei vaglia! Ma denaro non ce n'è! È nel borsellino? Sono rimasti solo degli spiccioli! Ci sono qui degli uffici di cambio? Mi hanno detto che qui si possono cambiare tutte le nostre carte di credito! Ha detto la nonna con decisione! Quanti ne vuole? Ma quel che perderà nel cambio è una cifra tale che perfino un ebreo se ne spaventerebbe! Sciocchezze mi rifarò! Portami là! Chiama quei tangheri! Ho tirato indietro la poltrona e subito si sono presentati i portatori che l'hanno portata fuori del casino! Presto! 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 Comandava la nonna! Mostraci la strada Alexia Ivanovich e prendi la via più corta! È lontano? Solo due passi, nonna! Ma mentre uscivamo dal giardino per imboccare il viale abbiamo incontrato i nostri quasi al completo! C'era il generale, De Grio, e Mademoiselle Blanche con la mammina! Con loro non c'erano né Pauline Alexandrovna né Mr. Astley! Su, avanti, non fermatevi! Ha gridato la nonna! Che state a fare qui voi altri? Non ho tempo da perdere con voi! Io camminavo dietro la poltrona della nonna e De Grio mi si è accostato d'un balzo. Ha perso tutto quello che aveva vinto stamattina più dodicimila dei suoi. Andiamo a cambiare i buoni al 5%! Gli ho sussurato in fretta. De Grio ha battuto il piede per terra ed è corso a comunicare la notizia al generale. Noi intanto continuavamo a spingere la poltrona. La fermi! La fermi! Mi ha sussurato il generale disperato. Provi un po' lei a fermarla! Ho sussurato io in risposta. Zietta! Ha cominciato a dire il generale avvicinandosi. Zietta! Noi ora! Noi ora! La voce gli tremava e a tratti gli mancava. Ora prenderemo a nolo dei cavalli e andremo a fare una bella girata fuori città. C'è una vista meravigliosa la guglia. Siamo venuti a invitarla. Al diavolo tu e la tua guglia! Ha risposto la nonna con un gesto iroso della mano. Là ci sono tanti alberi. Prenderemo il tè! Continuava il generale ormai completamente disperato. Nous boirons du lait sur l'herbe fraîche. Ha aggiunto De Grio infuriato. Du lait de l'herbe fraîche. Ecco ciò che c'è di più idealmente idilliaco per un borghese parigino. È così che egli vede, come noto, la nature e la vérité. Ma al diavolo anche tu col tuo latte! Bevitelo tu se ti piace ma a me fa doler la pancia! E voi perché vi siete fermati? Ha gridato la nonna. Vi ho detto che non c'è tempo! Siamo arrivati, nonna! Ho esclamato. È qui! Eravamo arrivati alla casa dove si trovava l'ufficio del cambiavalute. Io sono entrato a cambiare, mentre la nonna restava ad aspettare davanti all'ingresso. De Grio, il generale e Blanche stavano lì, in disparte, senza saper che fare. Ma la nonna ha gettato loro un'occhiata così furiosa che loro si sono avviati per il viale verso il casino. Mi è stato proposto un cambio tale che io non mi sono risolto a cambiare e sono tornato dalla nonna a chiedere istruzioni. Ma che briganti! Ha gridato la nonna battendo le mani. Beh, non fa nulla, cambia! Ha aggiunto poi, in tono deciso. No, aspetta, chiamami il banchiere! Vuole che le chiami uno dei commessi, nonna? Ma sì, chiama un commesso, fa lo stesso. Che briganti! Il commesso ha consentito a uscire quando gli ho detto che chiedeva di parlargli una vecchia signora ammalata, che non poteva camminare. La nonna ha parlato a lungo con lui, in un miscuglio di russo, francese e tedesco. Io traducevo, rimproverandolo a voce alta e adirata per la sua disonestà e mercanteggiando. Il commesso, serio serio, ci guardava tutte e due scuotendo in silenzio il capo. Osservava la nonna con un'attenzione talmente fissa da diventare scortese. Alla fine si è messo perfino a sorridere. «Leatene al diavolo!» gridava la nonna. «Strozza, tici con i miei soldi! Cambia da lui, Alexia Ivanovic, non c'è tempo! O se no, andiamo da un altro!» «Il commesso dice che gli altri ci daranno anche meno!» Non ricordo esattamente a quanto cambiassero, ma era un vero latrocinio. «Ho cambiato per dodicimila fiorini in oro e in biglietti di banca, ho preso il conto e l'ho portato alla nonna.» «Su, su, non c'è tempo di stare a contare!» ha esclamato la nonna con un gesto brusco della mano. «Presto, presto, presto!» Mentre ci avvicinavamo al casino, la nonna ha dichiarato. «Non voglio più puntare su quel maledetto zero e nemmeno sul rosso!» «Questa volta ho cercato con tutte le mie forze di persuaderla a puntare il meno possibile, assicurandola che se la fortuna cambiava c'era sempre il tempo di fare puntate più forti.» Ma la nonna era così impaziente che anche se l'iperlia consentiva non c'era poi verso di trattenerla durante il gioco. Non appena cominciava a vincere qualche puntata di dieci o venti federici, prendeva a darmi spintoni e a dirmi «Ecco, lo vedi? Lo vedi? Abbiamo vinto, ma se invece di puntare solo dieci federici avessimo puntato quattromila fiorini! A quest'ora ne avremmo vinti quattromila e adesso invece è colpa tua, tutta colpa tua!» E sebbene mi invadesse la rabbia vedendo come giocava, tuttavia alla fine ho deciso di tacere e di non consigliarle più niente. A un tratto mi sono trovato accanto De Grio. Erano tutti e tre lì vicino ed ho potuto osservare che Mademoiselle Blanche se ne stava in disparte con la mammina e civettava con il principe, mentre il generale era chiaramente in disgrazia e quasi beso al bando. Blanche non voleva nemmeno guardarlo, sebbene lui le ronzasse attorno disperatamente. Povero generale! Impallidiva, arrossiva, fremeva e aveva perfino smesso di seguire il gioco della nonna. Finalmente Blanche è uscita col suo principino e il generale è corso dietro di loro. «Madame? Madame?» sussurrava con voce melata De Grio, sfiorando quasi l'orecchio della nonna. «Madame, così non deve puntare! No, 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 così non va!» diceva storpiando il russo. «No! E come si deve fare? Allora su, insegnami!» ha detto allora la nonna avvolgendosi verso di lui. Improvvisamente De Grio si è messo a parlare in fretta in francese, consigliando, dandosi da fare, dicendo che bisognava aspettare la buona sorte e mettendosi perfino a fare dei calcoli con i numeri. La nonna non ci capiva nulla. Lui si voltava continuamente verso di me perché traducessi. Puntava il dito sul tavolo, indicava qualcosa. Alla fine ha preso perfino una matita e ha cominciato a fare dei calcoli su un pezzo di carta. La nonna ha perso la pazienza. «Via! Vattene, non fai che dire sciocchezze! Madame, madame, tu stesso non ci capisci niente! Vattene!» «Me, madame!» ha ricominciato a cinguettare De Grio, picchiando col dito sul tavolo e indicando le sue cifre. Evidentemente la cosa gli stava a cuore. «E va bene! Per una volta punto un po' come dice lui!» ha finito per dire la nonna. «Staremo a vedere! Può anche darsi che vada bene!» De Grio voleva soltanto dissuaderla dal puntare grosse somme. Suggeriva di puntare su singoli numeri o su più numeri insieme. «Secondo le sue indicazioni, ho puntato un federico su ogni fila di numeri dispari dalla prima dozzina e cinque federici sui gruppi di cifre da dodici a diciotto e da diciotto a ventiquattro, in tutto sedici federici. La ruota ha girato e si è fermata. «Zero!» ha annunciato il croupier. «Avevamo perduto tutto!» «Ma guarda un po' che imbecille!» ha gridato la nonna rivolta a De Grio. «Maledetto francesuccio che non sei altro! Sputa consigli come un oracolo! Vattene! Vattene! Non ci capisce nulla e ci viene fra i piedi!» Sanguinosamente offeso, De Grio si è stretto nelle spalle, ha gettato un'occhiata sprezzante alla nonna e se n'è andato. Si vergognava di essersi immischiato. Aveva tollerato anche troppo. Un'ora dopo, per quanto facessimo, avevamo perso tutto. «A casa!» ha gridato la nonna. Non ha più detto una parola finché non abbiamo imboccato il viale. Poi, quando già stavamo avvicinandoci all'albergo, ha cominciato a sfogarsi in recriminazioni. «Che sciocca! Che stupida! Che sono vecchia! Stupida che non sei altro!» Appena arrivati nell'appartamento, la nonna ha ordinato «Portatemi il tè e poi fate subito le valigie!» «Si parte!» «Dove volete andare, mammina!» cominciava a chiedere Marfa. «E a te che te ne importa? Statene al tuo posto! Potapic, prepara tutto, tutti i bagagli, si torna a casa! A Mosca! Ho buttato al vento quindicimila rubli!» «Quindicimila rubli? Mammina nostra, signore e Dio!» Si è messo a gridare Potapic battendo le mani in un atteggiamento desolato, pensando evidentemente che ciò avrebbe fatto piacere alla nonna. «Ma guarda questo sciocco! Comincia pure a piagnucolare! Sta il zitto e fa i bagagli! Il conto! Subito il conto!» «Il primo treno parte alle nove e mezzo, nonna!» Le ho detto io per calmare i suoi bollori. «E adesso che ora è?» «Le sette e mezzo!» «Che rabbia!» «Eh, non fa nulla! Alexei Ivanovich, io non ho più nemmeno una copeca! Eccoti altri due titoli di credito! Cambia anche questi! Altrimenti non ho nemmeno i soldi per partire!» Sono andato a cambiare e mezz'ora dopo, tornando all'albergo, ho trovato tutti i nostri nell'appartamento della nonna. Avendo saputo che la nonna partiva definitivamente per Mosca, sembravano colpiti da quella notizia, ancor più che dalla sua perdita al gioco. È vero che con la sua partenza si salvavano le sue sostanze, ma ora cosa sarebbe successo del generale? Chi avrebbe pagato De Grio? Mademoiselle Blanche, naturalmente, non aveva affatto l'intenzione di aspettare che la nonna morisse e probabilmente se la sarebbe squagliata col principino o con qualche d'un altro. Intanto le stavano tutti quanti intorno, dandole consigli e cercando di consolarla. Anche quella volta Polina non c'era. La nonna imprecava furiosamente contro tutti. «Toglietevi dai piedi, diavoli! Che centrate voi altri? Perché questa barba di caprone mi si caccia sempre davanti ai piedi?» gridava la nonna contro De Grio. «E si può sapere tu che vuoi, stupida!» ha aggiunto, rivolta a Mademoiselle Blanche. «Perché mi ronzì intorno?» «Diontre!» ha mormorato Mademoiselle Blanche, con un lampo furioso negli occhi, ma poi è scoppiata a ridere ed è uscita. «Elle vivrò, son ton!» ha gridato di sulla porta al generale. «Ah, così tu contavi sulla mia morte!» ha gridato la nonna al generale. «Vattene! Alexei Ivanovich, cacciali fuori tutti quanti! Che centrate voi altri? Io ho sperperato i miei soldi, non i vostri!» Il generale si è stretto nelle spalle, si è inchinato ed è uscito. De Grio l'ha seguito. «Chiamatemi Prascofia!» ha ordinato la nonna a Marfa. Cinque minuti dopo, Marfa era di ritorno con Polina. Per tutto quel tempo, Polina era rimasta chiusa nella sua stanza, con i bambini, e a quanto pare aveva espressamente deciso di non uscire per tutto il giorno. Il suo viso aveva un'espressione seria, triste e preoccupata. «Prascofia!» ha cominciato la nonna. «È vero o no quel che sono venuta a sapere poco fa? E cioè che quello sciocco del tuo patrigno vorrebbe sposare quella stupida civetta, quella francesina che deve essere un'attrice, se non qualcosa di peggio? Parla! è vero o no?» «Io non lo so con certezza, nonna», ha risposto Polina. «Ma stando alle parole della stessa Mademoiselle Blanche, che non ne fa un mistero, ne concludo «basta così!» l'ha energicamente interrotta la nonna. «Capisco tutto. Ho sempre pensato che gli sarebbe accaduto qualcosa del genere e l'ho sempre considerato l'uomo più vuoto e fatuo che conosco. Ha cominciato a darsi tante arie perché è generale!» Del resto ha ricevuto il grado quando era già a riposo come colonnello. E ora si crede chissà chi. «Io, cara mia, so tutto. So benissimo che mandavano un telegramma dietro l'altro per sapere se finalmente la vecchia aveva steso le gambe. Aspettavano l'eredità. Senza soldi, infatti, quella volgare sgualdrina, De Cominge, o come la chiamano, non lo prenderebbe neanche per la chè, con tutti i suoi denti finti. Dicono che lei abbia un sacco di soldi e che li presta interesse. Bel modo di arricchire. Io non accuso te, Prascofia. Non sei stata tua a mandare i telegrammi e del resto non voglio stare a rimangare il passato. So bene che hai un brutto caratterino, proprio come una vespa, dove pungi, lasci il segno. Ma mi piace per te, perché volevo molto bene a tua madre, la povera Caterina. Se vuoi, pianta tutto quanto e parti con me. Non hai dove rifugiarti e per te ora non è conveniente restare qui con loro. Aspetta!» Qui la nonna ha interrotto Polina che già si accingeva a rispondere. «Non ho ancora finito. Io non pretendo nulla da te. A Mosca ho una casa che è un palazzo. La conosci anche tu. Puoi occupare tutto un piano e non scendere neppure a vedermi per settimane intere. se il mio carattere non ti piace. Beh, vuoi venire o no?» «Mi permetta prima di chiederle, ma lei vuol davvero partire subito?» «Ma credi che io scherzi, cara mia? L'ho detto e partirò. Oggi ho perduto 15.000 rubli a quella vostra stramaledetta roulette. Cinque anni fa io ho promesso di costruire nei dintorni di Mosca una chiesa in pietra al posto di quella di legno e invece sono venuta qui a sperperare il mio denaro. E adesso, mia cara, vado a costruire la chiesa.» «E la cura delle acque, nonna? Se non sbaglio lei era venuta fin qui a fare la cura.» «Non mi seccare con le tue acque, Prascovia. Lo fai apposta per irritarmi? Dimmi allora, vieni con me o no?» «Io le sono riconoscente, nonna.» Ha preso a dire Polina con voce commossa. «Per il rifugio che lei mi offre. Lei ha in parte indovinato qual è la mia situazione. Le sono così riconoscente che mi creda verrò e forse anche molto presto. Ma per ora ci sono dei motivi, gravi motivi, per cui non posso decidere immediatamente sui due piedi. Se lei restasse ancora, magari per due settimane, significa che non vuoi venire? Significa che non posso. Per giunta non potrei in nessun caso abbandonare mio fratello e mia sorella. Tanto più che, tanto più che può effettivamente accadere che essi restino completamente abbandonati. Ma se lei mi prendesse insieme ai piccoli, nonna, ebbene verrei certamente. E creda pure che saprò ricompensare la sua fiducia.» Ha aggiunto Polina con calore. «Ma senza i bambini non posso, nonna.» «Leh, ora non metterti a piagnucolare.» Polina veramente non pensava neppure a piagnucolare e del resto lei non piangeva mai. «Si troverà un posto anche per i pulcini. Il pollaio è abbastanza grande e poi è ora che vadano a scuola. Dunque ora non parti.» «Beh, sta attenta, Prascofia. Io parlavo per il tuo bene e so bene perché tu non parti. Io so tutto, Prascofia. Quel francesino non ti porterà fortuna.» Polina è avvampata. «Io ho avuto un sussulto. Tutti lo sapevano, dunque. Ero io il solo a non sapere.» «Beh, ora non fare la faccia scura. Non starò a rimestare queste faccende. Solo sta attenta che non finisca male. Mi capisci? Sei una ragazza intelligente e mi dispiacerebbe per te. Su, basta adesso. Farei meglio a non vedervi più. Tutti quanti siete. Addio, vattene.» «Ma io, nonna, voglio accompagnarla al treno.» Ha obiettato Polina. «Non c'è bisogno, non mi disturbare. Già mi siete venuti a noi a tutti quanti.» Polina ha baciato la mano alla nonna, ma quella ha ritirato la mano e l'ha baciata sulla guancia. Passandomi accanto, Polina mi ha gettato una rapida occhiata e ha distolto subito gli occhi. «Beh, addio anche a te, Alexei Ivanovic. Manca soltanto un'ora la partenza del treno. Penso che ormai ti sarai stancato di me. Su, prendi questi 50 fedelici.» «La ringrazio umilmente, nonna, ma ho ritegno ad accettare.» «Su, su!» ha esclamato la nonna, ma in un tono così energico e minaccioso che non ho osato rifiutare e ho accettato. «Se un giorno ti troverai a Mosca senza impiego, vieni pure da me e ti darò una raccomandazione per qualcuno. Su, ora vattene.» Sono salito in camera mia e mi sono coricato sul letto. Credo che sarò stato sdraiato su Pino per una mezz'ora, con le braccia incrociate dietro la testa. La catastrofe stava ormai precipitando e c'era di che pensare. Ho deciso che il giorno seguente avrei senz'altro parlato con Polina. E il francesino? Dunque era vero. Ma cosa ci poteva essere in realtà? Polina e De Griot. Grandio che razza di accostamento. Tutto ciò era semplicemente inverosimile. A un tratto sono saltato su, quasi fuori di me, per andare subito a cercare Mr. Astley e costringerlo, a ogni costo, a parlare. Certamente anche su questo lui ne sapeva più di me. E lo stesso Mr. Astley? Ecco un altro enigma per me. A un tratto hanno picchiato alla mia porta. Apro, era Potapic. Babbino, Alexei Ivanovic, la signora chiede di lei. Che succede? Sta partendo? Mancano 20 minuti alla partenza del treno. È inquieta, babbino. Riesce appena a star seduta. Presto, presto, dice, cioè chiede di lei. Babbino, faccia presto, per amor di Cristo. Sono sceso subito al primo piano. La nonna era già stata portata in corridoio. Aveva in mano il portafoglio. Alexei Ivanovic, va avanti tu. Andiamo. Dove, nonna? Non voglio più stare al mondo se non mi rifaccio. Su, muoviamoci e senza far domande. Là si gioca fino a mezzanotte, no? Sono rimasto di sasso. Ci ho pensato su un momento e mi sono deciso. Faccia come vuole, Antoni da Vasilevna, ma io non vengo. E perché poi? Che vuol dire questa novità. Non sarete mica impazziti tutti quanti, per caso? Lei faccio come vuole, ma io non voglio, altrimenti poi me lo rimproverano. Non voglio essere né testimone né parte in causa. Me ne dispensi, Antoni da Vasilevna. Ecco indietro i suoi 50 federici. Addio. E deposto il rotolo dei 50 federici su un tavolino accanto alla poltrona della nonna, mi sono inchinato e sono uscito. Che sciocchezza! mi ha gridato dietro la nonna. E va bene, non venire. Saprò trovare la strada da sola. Potapic, tu vieni con me. Su, alzatemi e andiamo. Non ho trovato Mr. Astley e sono tornato a casa. Solo molto tardi, già dopo mezzanotte, ho saputo da Potapic com'era finita la giornata della nonna. aveva perduto tutto quello che io le avevo cambiato poco prima, e cioè ancora 10.000 rubli nella nostra moneta. Là, al casino, era riuscito a entrare nelle sue grazie quello stesso polacuccio al quale lei, al mattino, aveva regalato due federici. E quello aveva diretto il suo gioco per tutto il tempo. All'inizio, prima che si presentasse il polacuccio, lei aveva incaricato Potapic di puntare, ma ben presto l'aveva cacciato via. Allora aveva fatto la sua comparsa il polacuccio. Come a farlo apposta, lui capiva il russo e lo parlava anche alla meglio, così che, bene o male, riuscivano a capirsi, in un miscuglio di tre lingue. La nonna non faceva altro che ingiuriarlo senza pietà, sebbene quello non perdesse occasione di prosternarsi ai piedi della signora. «Ma non c'era paragone con lei, Alexia Ivanovic», raccontava Potapic. «Con lei la signora si comportava proprio come con un signore, ma quello là, l'ho visto io con questi occhi che il signore mi fulmini qui dove mi trovo, se non è vero». Quello le rubava i soldi dal tavolo. «Lei stessa l'ha colto sul fatto due volte e si è messa a ingiuriarlo». «Viene ha detto di tutti i colori, babbino, e una volta l'ha addirittura tirato per i capelli». «Non dico bugia, babbino, tanto che intorno la gente...»